ingredienti dosi per quattro persone 400 grammi di tagliatelle 250 grammi di vongole 500 grammi di funghi champignon 400 grammi di pomodori pelati prezzemolo sale olio e due spicchi d'aglio preparazione soffriggere l'aglio nell'olio e unire i funghi dopo 10 minuti aggiungere i pomodori e il sale a fine cottura unire le vongole cuocere ancora 5 o 10 minuti cuocere le tagliatelle in acqua salata bollente scolarle e mischiarle alla salsa preparata il piatto è pronto buon appetito